I Care Carcere in Città, il titolo dell'open day che si è svolto nel carcere di Sollicciano, sottintende due importanti novità. Preoccuparsi ed occuparsi della più grande struttura carceraria in Toscana, facendola entrare nel tessuto cittadino. Una delle novità degli ultimi anni è infatti che Sollicciano è entrata negli strumenti urbanistici del comune, direttamente nel piano operativo. Inoltre, molte sono le iniziative previste per far incontrare la popolazione cittadina con quella carceraria. Orti Urbani in Comune, un progetto di portare qui capolavori degli uffizi ed eventi dell'estate fiorentina 2023. La giornata I Care si è svolta in quella che è un'eccellenza del carcere, il giardino d'inverno disegnato da Michelucci, che a Sollicciano non è altro che l'area a colloqui. La soluzione dei problemi del carcere è soprattutto fuori, spiega la direttrice. Chi entra qui dentro spesso ha avuto una vita difficile, non è mai stato a teatro, non ha mai letto un libro. Se la prevenzione è la madre di tutte le soluzioni, il carcere di Sollicciano resta un sorvegliato speciale tra i penitenziari italiani, spesso al centro di cronache per suicidi, sovraffollamento, condizioni invivibili e difficoltà della polizia penitenziaria. Accanto al Gozzini, la situazione è completamente ribaltata. La custodia attenuata permette attività formative che rendono davvero la pena rieducativa, come chiede la Costituzione. Anche a Sollicciano dovrebbe essere possibile, ma sono molte le richieste ancora senza risposte concrete. Intanto una carenza organica, ma soprattutto ci serve formazione, perché noi allo Stato non abbiamo dei corsi di formazione professionalizzanti. Noi dobbiamo dare a queste persone una prospettiva. Più sanità, per esempio, più educatori. C'è un progetto, è stato finanziato dalla regione, di etnopsichiatria, perché noi abbiamo il 70% di persone detenute, di straniari, e l'approccio non è sempre facile. I poliziotti non sono formati per relazionarsi con persone che hanno barriere linguistiche, culture diverse. Quindi serve più personale e dedicato, operatori sociosanitari, educatori della salute mentale.